e ciao a tutti ragazzi qua è mille che vi salute e oggi vi insegno un cazzo di tutorial dai scherzavo su come avere le mod su garris mod ragazzi è facilissimo allora entrate nel workshop questi sono tutti i contenuti qua si ottengono i contenuti aggiuntivi possiamo averli di tutti i giochi però noi dobbiamo scrivere garris mod se li vogliamo di garris mod ecco poi entriamo su garris mod poi se vogliamo cercare scrivere il toilet schibi di toilet ecco fatto che minghia ecco ecco che è che questi sono tutti Io li ho sottoscritti tutti Vabbè ma vi insegno così Allora premete un pacco a casa degli iscrivitori Vedete se tengono contenuti Qua non li tengono Ma questo è gratis Ma se tengono contenuti Tipo se questo, questo tiene contenuti No aspe No con i contenuti Credo che sia questo Va bene Guarda Questo chiede tipo contenuti E dovete scaricare prima questo Dopo aver scaricato questo contenuto Lo dovete sottoscrivere ragazzi Poi aspettate Vabbè Ecco Secondo me è già su Gary's Mod E poi entrate su Gary's Mod Ma vi faccio vedere Io ovviamente tengo tutte le mod Degli iscrivitori Vi spiego un'altra cosa Io cerco di scaricare Titan TV Man Upgrade E non ci riesco Ci sono riuscito con Titan Speaker Man E Titan Cameraman E con Titan TV Di due upgrade E con Titan TV Upgrade No Mentre Questo è il Gman Lo conosciamo tutti Io Sfetto Perché guarda Perché capita sempre questo bug Io tengo tante mappe Solo che se voi Non aspettate i contenuti aggiuntivi Esce questo Vabbè Poi escono le mappe Ecco Si sta scaricando Ma vi faccio Presegno con il lito Guarda Ecco Tengo tutte queste mappe Tengo pure quella di Simpsons Tengo la Big City Dite quale mappa Posso scegliere E voi Le favorite Queste Vabbè Vi faccio vedere qua La mappa principale E ovviamente Che è questa Bene Aspetta Ma si stanno Scaricando Ah che minghia Comunque Se volete diventare Youtuber come me Potete scaricare L'editor Di CapCut Prima fate video Con la vostra Fotocamera E poi Scaricate L'editor Di CapCut Così potete Modificare I vostri video Tipo come il mio Comunque Comunque Fra poco Arriba L'episodio Scrivo di Toilet Roblox 9 parte 2 E' il full episode Solo che Spero che Le abbiate Visti Dovete Lasciare Like Se lo Volete Che Venga Però Vabbè 126 Problemi Sì Però Non li So Risolvere Ok Poi Per vedere Le modi Dovete Premere Avvia Partita E questo Era il Tutorial Ragazzi Spero che Vi sia Piaciuto Il video Intanto Devo Questi Chiari Che As